Le storie delle metamorfosi di Casanova presentano l'amore come la motivazione più profonda dell'umanità, il seme della vita e il sorriso dell'esistenza, sentimento principe dell'animo umano senza il quale la vita stessa sarebbe un tunnel buio. Prendendo come pretesto per le sue narrazioni la gloria di un personaggio noto per le sue avventure erotiche, Attila Balas fa dell'eclettica figura di Casanova un simbolo del comportamento e delle esperienze erotiche e sentimentali di ogni lettore uomo. Grazie.